I Mayhem hanno insegnato a Motley Crullo Shreddy a spassarsela. Mi hanno tatuato il nome mentre ero privo di sensi. Ti rendi conto? Guarda qua! Ci vanno giù duro! Io ero al college la prima volta che ho visto i Mayhem sul palco. Ho sempre idolatrato il Dottor Tenti e ho comprato la placchetta d'oro per essere come lui. Ehi, Kukukachu! Siamo stati un po' distratti dagli anni Ottanta. Ma certo! Due, tre, quattro! Nora Singh, CEO della Wax Town. Vorrei aiutarvi a produrre un album. Sì, e vai! Nora! Che gli prende? Significa che gli piaci! Io... anch'io amo gli animali. Tutta la vita che aspetto un album degli Electric Mayhem e finalmente qualcuno sta per accontentarmi. Ok, si comincia! W. Bravo, Animal! Eh, noi portiamo la vecchia a scuola. E tu? Porti la nuova! Vi piacerebbe una collaborazione? Credo che Animal sia pronto per registrare la sua traccia. Era perfetto! È un sound che non c'entra niente. Fa troppo caldo! Me ne vado! Contenti? Sì, sì! Ci siamo! Molto felici! I ragazzi sono felici! Uiii! Ehi, guardate! Ho una forchetta! Sì! Sì! Ci siamo! Ci hai mostrato che c'è un mondo al di là dei Mayhem! Tic-tac, tic-tac! È fra i trend, opera tua! Con un tweet puoi incasinare tutta la musica! E la nostra vendetta sarà rapida! Fanno sul serio! Oh, mamma! Che bel programma! Drammi veri! Torniamo a quello che sapete fare meglio! Pronta ad appoggiarvi! Magnifico! Se sei pronta tu, figurati noi! We're gonna run! Benvenuta nel Mayhem! Siamo più che una band! Siamo una famiglia! Ora! Electric Mayhem è un aspirapolvere? Grazie! Non può essere più strambo di così! Puoi dirlo, Ford! Vedete la telecamera? Ok, non guardate la telecamera! Azione! Run! No! Che finale sospeso! Piacerà da matti a Disney Plus! Si guardano tutti!